E ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere ci troveremo qui su il Minecraft, su il Minecraft, comunque ragazzi, seriamente ci troveremo sul Minecraft alle ore 18, ovvero tra mezz'ora circa, ci troveremo tutti appunto sul server del Minecraft per guardare il GameGrabbers Show! Quindi ragazzi, venite alle 18, all'interno del server che troverete qui sotto in descrizione, il Minecraft, vi ripeto, il server di Luke4316, potete anche guardarlo se non potete entrare all'interno del server, che comunque vi ricordo che sia per Premium sia per SP, potete guardare il live sul canale Twitch di Luke4316, troverete tutti i vari link che vi interessano qui sotto in descrizione, vi aspettiamo, ciao ciao!